Mi piacerebbe che ci fossero davanti alla Questura tanti padovani, tanti veneti, tanti italiani, senza casa, senza lavoro, esodati, sfrattati, disoccupati, separati. Quindi non si capisce perché noi dobbiamo occuparci e preoccuparci centinaia e migliaia di persone che arrivano dall'altra parte del mondo quando ci sono 4 milioni di italiani senza lavoro. Matteo Salvini commenta così quanto è accaduto a Padova questa notte con i profughi che hanno dormito in strada davanti alla Questura. Arrivato in provincia, accompagnato da alcuni candidati consiglieri della lista del Carroccio che sostiene Luca Zaia, ha criticato duramente tutti i privati che hanno deciso di mettere a disposizione la casa per l'accoglienza ai profughi. La casa sfitta penso che ce l'avessero anche settimana scorsa con tanti padovani senza tetto. Poi ognuno mette la casa sfitta a disposizione di chi vuole. Secondo me è da radical chic preoccuparsi di chi ha bisogno e arriva dall'altra parte del mondo quando magari ha bisogno il vicino di casa. Salvini poi si scaglia contro il ministro Alfano che ha chiesto ai comuni di applicare la circolare del governo che consente di far lavorare gratis i profughi. È una roba da quarto mondo, quindi da scafista adesso si improvvisa a piazzista di lavoratori a gratis. Alle prossime regionali spero che dal Veneto arrivi un segnale di grande partecipazione e che si prenda esempio dalla Scozia, ha detto Salvini, sostenendo l'operato di Zaia. L'aria per Zaia è buona, la gente riconosce quello che ha fatto. Non sono mai tranquillo, nel senso che la sfida non è vincere ma è stravincere. Quindi portare tanti Veneti a votare il 31 maggio per una sorta di referendum fra il Veneto e lo Stato centrale. Grazie. Grazie.